carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore non vi abbandona mai la grazia del signore vi avvolge giorno e notte anche di notte c'è salmista il mio cuore mi istruisce lo vogliamo proclamare dal salmo che oggi recitiamo come il salmo responsoriale dal salmo 16 proteggimi o dio in te mi rifugio ho detto al signore il mio signore sei tu solo in te è il mio bene il signore mia parte di eredità e mio carice nelle tue mani e la mia vita benedico il signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio animo mi istruisce io pongo sempre davanti a me il signore sta alla mia destra non potrò vacillare mi indicherà il sentiero della vita gioia piena la tua presenza dolcezza senza fine alla tua destra chi è chi ha conosciuto il signore chi ha sperimentato il suo amore perché dio è amore sarebbe come dire io conosco quel paese perché ho visto una cartolina ma non ci sono mai stato dio è amore e si conosce con la vita e si fa conoscere da noi e fa comunione con noi ora dio è amore e quando una persona si è lasciato toccare dal suo amore il frutto il primo frutto che si manifesta è innanzitutto la remissione dei peccati la cancellazione delle colpe e a cui segue poi l'amore verso il proprio prossimo ricordate zacho e zaccheo una volta che gesù fu entrato in casa sua decisi di dare metà dei suoi beni poveri e se aveva fraudato qualcuno disse a gesù li restituirò quattro volte tanto vedete misericordia che genera perdono la riconciliazione con dio e segue l'amore verso il prossimo e questo che troviamo Ma nell'Apostolo Paolo, oggi nella prima lettura, la Chiesa ci fa proclamare un brando alla prima lettera di San Paolo, al suo discepolo, carissimo discepolo, Timoteo, che era figlio di ebrei, quindi era circonciso, e San Paolo dice a Timoteo, tu hai appreso la fede da tua nonna, la nonna ti ha istruita nell'amore di Dio, e poi aveva incontrato Gesù attraverso Paolo, e San Paolo, parlando al suo discepolo Timoteo, gli dice, Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio, perché lui era un avversario di Dio, cioè amava Dio, come l'aveva conosciuto nella sinagoga, l'aveva conosciuto anche ai piedi di un grande maestro della fede ebraica, di un grande rabbino, Gamaliele, che è ricordato ancora oggi in un libro sacro degli ebrei, il Talmud, ed era diventato molto, molto zelante nel difendere la fede, tanto da perseguitare i cristiani. Ma che Gesù, che Dio aveva conosciuto, il Dio della legge, infatti in un brano che non leggiamo oggi, nella messa, sempre di questa prima lettera, l'apostolo Paolo, della funzione della legge, è rivolta al suo discepolo Timoteo, dice, a proposito appunto della legge, noi sappiamo che la legge è buona, purché se ne faccio un uso legittimo, nella convinzione che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i sordomuti, i mercanti di uomini, i bugiardi, gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla santa dottrina, secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio, che mi è stato affidato. La legge è per arginare il male, per indicare la strada a seguire, ma la vita è Dio, l'incontro con Dio è il suo Santo Spirito, è Gesù Cristo, è quell'amore che Dio ha dato agli uomini. San Paolo, quindi, che era stato un persecutore, era stato chiamato dal Signore a evangelizzare, perciò poteva dire al suo discepolo, «Sono apostolo per ordine di Dio, per comando di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo, nostra speranza». Quindi lui si rivolge al suo discepolo, di modo di dicendo «Grazie, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro». E poi qui racconta l'apostolo «La sua chiamata, rendo grazie a Colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù». Quando Gesù le si manifostò sulla strada di Damasco, non solo gli fece capire che stava sbagliando per perseguire la Chiesa, ma lo illuminò sulla vera relazione con Dio, che è amore. Lui odiava, invece, perseguitava pensando di fare del bene, ma Dio non odia neanche nei Suoi amici. Abbiamo visto ieri le parole di Gesù nel Vangelo «Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi perseguitano, benedite coloro che vi maledicono». Questo cuore di Dio San Paolo non l'aveva conosciuto, conosceva la legge, la legge che imponeva norme, cose giuste, ma sempre una imposizione, perché il cuore dell'uomo non è secondo la legge di Dio, allora bisogna essere riveduto, rigenerato. Quindi, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, cioè lui insultava Gesù Cristo, un persecutore è un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, e infatti lui pensava di essere sulla buona via, pensava di essere retto, non aveva conosciuto lo Spirito di Dio, ma quando Gesù le si manifestò, lui buttò tutta la sua passione nell'amare Gesù Cristo, è diventato un grande innamorato di Gesù, che lo ha riempito poi di potenza e di Spirito Santo, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù, cioè in me la grazia di Dio ha portato frutto, il Signore mi ha chiamato. Ora fratelli, chiediamoci, abbiamo tutti gli stessi doni da Dio, non abbiamo tutti gli stessi doni alla stessa maniera, ma tutti abbiamo lo stesso amore. Gesù non ama te meno di San Paolo, Gesù non ama te meno di colui che poi è diventato l'apostolo dei pagani, ti ama alla stessa maniera, tutto quell'amore che Gesù ha dato a San Paolo, lo dono a te, ma ti fa scoprire quest'amore in via diversa. Vedete come l'apostolo ha risposto quando Gesù gli si manifestò, lui stette tre giorni senza mangiare, bere, dedicandosi unicamente alla preghiera per arrendersi a Dio. Io non ho mai fatto tre giorni di digiuno, di preghiera come l'ha fatto San Paolo. San Paolo ha risposto generosamente, non guardando alla sua salvezza, ma guardando alla volontà di Dio, per cui agiva nel peccato, ma dentro di lui c'era un senso di rettitudine, e una volta illuminato si è buttato anima e corpo nella grazia di Gesù. Questo è di invogliare tutti noi, fratelli, a scoprire questo amore, che Dio vuol dare a tutti, nessuno è escluso, hai sbagliato nella vita, il Signore sta guardando a te che soffri, sta guardando a te che sbagli per ignoranza, per debolezza, sta guardando a te e ti vuol dare più di quanto tu posso immaginare o pensare. Allora apri il cuore, arrenditi a Lui. Questo è quando la scrittura suggerisce arrendersi a Dio, piegarsi a Lui, lasciarsi rinnovare, non da dottrine, lasciarsi rinnovare dal suo spirito, che è amore, amore infinito. E nel Vangelo Gesù porta una parabola per quanto riguarda la correzione fraterna. Dice che se tu vuoi togliere la pagliuzza dall'occhio di un altro, ma hai qualcosa di più grave nel tuo occhio, non potrai mai vedere la realtà dell'altro se prima non guarisci il tuo occhio. Ricordate la barzelletta del frate di Međugorje, quella donna che vedeva la vecina di casa stendere i panni tutte le mattine e trovava sempre dello sporco solo i panni della vicina, sul bucato fatto dalla vicina, fino a che la mattina il suo marito guarda, la vicina ha imparato a fare pulizia, pulizia, a lavare i panni in modo giusto, adesso il suo bucato è pulito e il marito le ha risposto no, sono io che ho lavato il vetro della nostra finestra, adesso tu non vedi più lo sporco sul bucato dell'altro, è la dottrina di Gesù, correggi prima te stesso, San Paolo prima di correggere gli altri ha corretto se stesso e questo è una prassi che tutti dobbiamo seguire quando due persone per esempio non vanno d'accordo tra di loro nessuno deve accusare l'altro ma ciascuno dica cosa c'è in me che impedisce all'altro di venire d'accordo con me marito e moglie litigano chi ha ragione chi ha ragione chiede a se stesso cosa c'è in me che impedisce all'altro di amarti di seguirmi perché prima devo correggere me stesso ecco l'insegnamento di Gesù e noi facciamo il tesoro Signore Gesù tu sei la sapienza di Dio il tuo amore portato a Paolo dall'essere persecutore diventare l'apostolo dei pagani pieno di carisma pieno di spirito santo pieno di sapienza di saggezza lo hai trasformato e hai diventato una tua immagine vivente su questa terra oggi ti chiediamo chiamata altri paolo nella chiesa e questa chiesa che oggi ha bisogno di luce ha bisogno di verità che è tanto denigrato tanto perseguitato fruscato calpestata anche in quella che fa di bene Signore Gesù rinnova la tua chiesa rendila potente e fa che permette la tua chiesa tutta l'umanità venga a conoscere il tuo cuore divino che ci ha tanto amato da dare la tua vita per noi sulla croce a te gloria onore potenza per tutti i secoli dei secoli amen e mette nel cuore di ogni credente Signore la ricerca della propria correzione della propria conversione per poter essere di aiuto agli altri tua Vergine Santissima Vergine Immacolata quando ti manifesti non critichi mai nessuno non condanni mai nessuno dai sempre speranza sempre fiducia in te brilla la gloria di Gesù Cristo fa che questa gloria oggi risplenda in mezzo all'umanità e che l'umanità intera si converta a Gesù che l'umanità intera abbandoni il peccato come Paolo per seguire Gesù tuo figlio nostro Signore che vive al Regno per tutti i secoli dei secoli amen e la chiamate del Signore oggi fratelli su ciascuno di voi ricordate Gesù non ti dà qualcosa ti dà tutto se stesso confidi in Lui abbandonati a Lui segui Lui e avrai la vita in pienezza amen